Questo è il mio primo evento grosso, ho approfittato del supporto di amici, di nuovi amici, Dario, non lo vedo, ma Alfonso lo ringrazio. Allora, io premento, magari, tu sto per spiegare, ho preferito, piuttosto che una singola bustina di partecipazione di una comunque penultima istanzione, che magari è niente di confronto a quello che può essere, ho preferito comprare una serie di premi più consistenti e destinarli ad estrazione. E' vero che alcuni tornano più contenti di altri, però comunque il bene intrinseco di per sé è di più valore, quindi... In questo senso, l'anno scorso l'annunceremo alla fine, i premi sono commisurati al quanto sono partecipati di un secondo età. Tre box al primo, un box al mezzo al secondo, un box al terzo e quarto, nove bustine a testa dal quinto all'ontavo. Ovviamente otto tappellini e per i primi quattro anche il portadetto. Poi ci saranno, ad estrazione, dieci premi, che sono tre collezioni di Gettaria Caiba, tre del Piero Relumentario e dei Megapin. Che ora procederemo ad estrazione come? Ci avvaliamo per sito randuno.org, dal nono fino al quarantottesimo, esplodiamo la coppotto che già ha vinto i premi consistenti, dal nono al quarantottesimo estrarremo un numero a volta e daremo il premio con rispondente. Ovviamente, se viene stato due oltre lo stesso numero, si procede a un altro numero. Un piccolo, una piccola cosa che ho gradito fare anche sul suggerimento di un nuovo amico. Premio anche, già lo sapete tutti, premeremo anche l'ultimo classificato. Perché non ho droppato? 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 Non senti, amico, per le due donne Francesca. Scusate, ho passato a me. Silenzio! Con un solo punticino premiamo il quarantottesimo classificato con... Quattro box! e lo surdo Antonio silencio numeri a caso Alfonso vince bravo Alfonso bravo Alfonso bravo Alfonso buone buone è buono merda sta vincendo Messa No, 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 no. Nel quale, superando i 35 giocatori, c'è al primo tre go spell, al secondo un permanence, terzo e quarto Borerod, dal quinto all'ottavo un sarughe, il costo è 18, ci sono due buste per ogni partenza. Bravo nonno, bravo appunto. Volevo aggiungere un'altra cosa, la tria la trovate nell'evento, cercate. Alfonso l'estimo! Mi farebbe piacere che venite a festeggiare tre anni con noi e inoltre, non è scritto nell'evento, non ve lo chiedo, portatevi un cappellino di Natale rosso. Ok. Procediamo alla seconda estrazione di Sienzio, di un bel terrolo leggendario. Non potevamo aggiungere anche Aiello. Numero 20, Marinetti Giuseppe. Dov'è Marinetti? Cornuto. Non mi parlare, Marinetti? Marinetti, non sei in top! Con il bel terreno, non sei in top! Non sei in top! Quando venite chiamati, venite a ritirare le polizia! Ragazzi, non rivoluzioniamo! Non riesco a fare il bonus. Aspetta, per me ci sono andabili. Quando viene? Non so, per me lo facciamo fare. Fa' il tavolo libero! Bimbi! Quale il tavolo libero? Bastissimo! Adesso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.